Quest'anno Farnesiana, come spesso accade, vede tantissimi grandi artisti nel nostro comune. Ricordiamo gli anni passati Massimiliano Ossini per la valorizzazione della montagna, Roberto Giacobbo per la valorizzazione del paesaggio della nostra necropoli e lo scorso anno il museo di Margarita d'Austria che tornava a Campli. Quest'anno abbiamo puntato su due artisti di livello importante come Patti Pravo e Gianluca Grignani, oltre al ritorno del sottosegretario Vittorio Sgarbi che presenterà il suo libro dove metterà in risalto i borghi minori, le opere dei borghi minori e ci saranno anche delle opere che sono a Campli. Quindi un momento importante, culturale e artistico che vede la nostra città sempre in prima linea da questo punto di vista, oltre allo sviluppo turistico, anche un'offerta per quest'estate che sicuramente porterà tante persone a Campli. Come del resto stanno portando tante persone, tante sagre che sono organizzate sul nostro territorio, tanti eventi che già abbiamo organizzato e che faremo anche nelle prossime settimane. A tal proposito si è chiusa da poco la sagra del Tartufo con tanti presenti e all'orizzonte ci sarà quella della porchetta. Sì, la sagra del Tartufo tutte le sere, numeri altissimi, un alto livello di soddisfazione, tante visite anche alla necropoli di Campovalano. Siamo in prossimità poi della sagra del Timballo il 28 di luglio a Floriano e poi quella della porchetta dal 18 al 23 agosto che va un po' a concludere quella che è la nostra grande estate camplese con oltre 50 eventi quest'anno, insomma davvero ogni sera qualcosa per chi vuole trascorrere qualche ora in relax nella nostra bellissima cittadina.